buongiorno a tutti dal gusket buon quasi ferragosto anche se poi ferragosto io lavoro quindi non niente un ferragosto brutto quest'anno comunque parliamo di notizie un po assurde assurde via più che assurde gli sprechi dello stato italiano proprio il sistema che utilizzano che fa venire nervoso ne conoscete queste buste verdi no quando arriva una busta verde non è mai una bella cosa normalmente sono multe o tasse da pagare nel mio caso la multa allora la multa in sé diciamo che più o meno ci sta perché circa una decina di giorni fa non vi dirò la città per errore mio sono passato in una ztl non ho visto che c'erano le telecamere c'era un cartello quindi ztl traffico limitato però non ho notato delle camere niente ho fatto 100 metri praticamente e poi sono rientrato su una via normale però lì sono tutti i sensi unici quindi capite bene che quando c'è dei sensi unici non è che puoi tornare indietro sei obbligato ad andare avanti e poi prende la prima svolta che ti porta via comunque morale della favola che c'era la telecamera di controllo il famoso varco ed era attivo il varco purtroppo e quindi mi è arrivata una multa dopo l'ho presa il 29 mi è arrivata lunedì o martedì a 10 l'ho pagato praticamente una multa da 77 euro per aver passato il varco senza permesso che per carità e tanto se proprio in proporzione perché poi c'è è una violazione del codice ok tutto quello volete ma e oltretutto queste multe qui se uno per errore per possibilità non hai altre possibilità di passare di lì e non hai il permesso avvisi avvisi i vigili due giorni prima cioè no due giorni entro le 48 ore che sei passato di lì sempre che te ne sei accorto dicendo che per esigenze lavorative di traffico sei dovuto passare di lì perché non potevi fare altrimenti non avevi il permesso di avvisi che sei passato se vi dono la tua taga quindi ti permettono di pagare il pass per assurdo no? e vabbè io non lo sapevo perché non sono di questa città quindi ci vado assolutamente per cui non lo so vabbè comunque lasciando perdere la multa che è alta per 77 euro secondo me è un'esagerazione da pagare per un passaggio in ZTL cioè a momenti è meno grave passare con Rosso e poi in quel caso lì cosa vuole fino a qualche mese fa ci passavano tutti e adesso sono bloccato vabbè ok boh l'inquinamento poi le cagate lì comunque poi intanto intorno a quella città lì c'è un traffico continuo quindi non credo che di lì all'inquinamento sia meno che vabbè comunque l'ho pagata a tutto posto quando è arrivata questa multa praticamente l'ha ritirata mia mamma io non ero a casa ha firmato lei ha ritirato la multa e boh io poi sono andato a casa della sera a lavorare ho trovato la sorpresa dopo un giorno cioè l'altro ieri il 10 mi lasciano un altro scontrino per un'altra raccomandata ho detto ma no è possibile l'ho ricevuta ieri cosa mandano un'altra raccomandata che cosa che roba strana ho preso un'altra multa e non ho pazienza comunque vado a controllare sul codice di questi scontrini che ti lasciano effettivamente corrispondeva ad un documento di una multa qualcosa del genere perché lì c'è un codicino che se vai a cercare su internet ti spiegano cosa dovrebbe essere quello che ti dovevano mandare comunque morale della favola stamattina proprio sabato oggi sono andati in posta per ritirare questo foglio questo oggetto loro chiamano oggetto quindi può essere qualunque roba può essere una bomba comunque morale della favola arrivo là sono andato a ritirare la raccomandata così 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 prendo il documento solite cose e mi danno una busta come questa qui verde no? dico ma no è un'altra multa l'ho presa l'altro giorno no no questa qui non è la multa questa qui è la ricevuta del ricevimento cioè mi ha rimandato un'altra raccomandata con lo scontrino firmato dal postino per dire che quel giorno lì cioè due giorni prima avevo ricevuto la multa e l'aveva ritirata mia mamma allora adesso io capisco tutto loro lo fanno probabilmente perché almeno così l'ufficio di polizia e vigili è a posto perché lui sa che non è tu l'hai ricevuta no? in modo che non ne ceda nei giorni quelle cose lì vabbè però è uno spreco di soldi perché se questa ricevuta qui se questo scontrino qua il postino glielo dava subito mia mamma con scritto firmato con scritto le do ancora questo scontrino che lo tengo insieme alla cosa con scritto che chi l'ha ritirata non era l'intestatario della multa ma un familiare no le poste ha rimandato una raccomandata per questa cosa qua adesso una raccomandata così costa erano 4-5 euro penso una cosa del genere ormai ormai c'è quei costi lì cioè io come stato come cittadino italiano devo pagare oltre alla multa che va bene esagerata finché volete tutto quello che volete ma la multa va bene in più ci sono tutte queste spese morte la carta scontrino la mia perdita di tempo perché devo andare in posta perdere un'ora per dire per andare là oppure mandare uno perché l'avevo già preparata ha detto ma se arriva passa a Maria e a mamma la va a ritirare poi sono andato io però è tutto un controsenso cioè ti dà la multa firma un conoscente che abita lì nella casa beh il postino gli dava subito questo foglio qua come ricevuta che e lui si tratteneva una coppia logicamente firmavi due volte questa rimaneva loro e una rimaneva noi e poi risultava anche questa qui a posto e poi mandavano magari un fax ai vigili dove ho preso la multa con scritto abbiamo abbiamo recapitato la multa all'utente trasgressore cioè è una cosa che non cioè quando ho visto questa cosa qua ho detto andiamo bene meno male che poi dicono che abbiamo un debito pubblico più alto uno dei più alti del mondo grazie tutte spese morte perché sì nel costo della multa probabilmente c'è anche questi soldi qua però se tu eviti queste cose qua magari la multa invece di 77 euro era 72 perché non pagavi l'invio di un'ulteriore raccomandata e basta bastava cioè tanto quando ti arriva a casa che l'abbia firmata mia mamma l'ho firmata io mio fratello gli ho dato un documento probabilmente qualcosa e quindi è registrata la cosa no e vabbè pazienza la multa l'ho pagata amen probabilmente nel centro storico di questa città non ci vado più così me lo imparano hanno perso un cliente poi dicono che i negozi non lavorano lavorano i supermercati all'esterno e grazie all'interno non ci si può andare con la scusa dell'inquinamento del traffico basterebbe regolare il traffico nella maniera giusta fare dei parcheggi veramente fatti bene e io parcheggio poi c'è un sistema di navetta magari a costo zero o a costo bassissimo tipo non so un euro tre ore e io entro entro in zona pedonale con la mia navezzina elettrica ma i sistemi ci sono basta solo applicarli va bene buon ferragosto a tutti ciao ciao